Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Yakuza Kiwami 2 Allora, nello scorso episodio è scopiata una bomba, a quanto pare Non sappiamo dove, però presumo sia la cosa di cui stavano parlando all'inizio del gioco E quindi hanno assaltato, c'è qualcosa a terra, oh, questa cosa è completamente randomica, ok Stavo dicendo che sicuramente la torre dell'inizio che dovrebbe essere quella dove si trovano Dove si trovano l'alleanza, la nostra alleanza diciamo, ora mi sfugge il nome Ok Non si è accorto di niente Vediamo cosa hanno da dire, questi invece A quanto pare Kamuro Cho Ok, parla alle persone dieci volte, c'è dato delle cose C'è una chiave qua in giro Passiamo alle bici Ok, sotto un burillo, finchi di uno Posso passare? Ah sì Vediamo cosa è successo Ah, Kamuro Cho Millennium Tower, ok È iniziata la guerra Sì I fuochi d'artificio di cui stava parlando È iniziata la guerra Giunci Sudo Giunci Sudo Di mento, per tutto Ci voleva incastrare Mi sembra che poi fosse diventato tra virgolette buono lui E vedi Adesso comunque Cioè prima erano un po' nemici lui e Date Adesso Invece a quanto pare sembra la sua risorsa numero uno Fuchi d'artificio Achievement sbloccato Ok Capitolo 3 Sono abbastanza veloci La cacciatrice di Yakuza Eh già Tu stavi dormendo, vero? Ahahahah Già Eh abbiamo incontrato anche Il nostro nemico Sì Eh Vabbè Andiamo Vabbè Usare l'arma Lo sappiamo Ok Guadagneremo certi bonus In base alle armature Che stiamo usando Nomi e colori Giocano un grande ruolo In queste combinazioni Ad esempio Occupare il braccialetto rosso La fascia rossa Attiva Il bonus Si dice Benedizione rossa Ok Cosa cosa non la sapevo Vabbè Questa roba la sappiamo Delete Gauche Cosa facciamo? Facciamoci un giro Per la città Per vedere se È sotto, vero? Posso scendere? Ah no È lì Ok 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 La chiave è 2 Tu chi sei? Dimmi Ci sta chiedendo Che cosa pensiamo Di Per essere un modello Mezzo 1 Ok Sì Andiamo a fare i modelli No 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 Stai cercando qualcuno Di molto muscoloso Quindi Non abbiamo esperienza Con questo tipo di cose Vabbè dai Eh sì Soldi Sì Facciamolo Lo dobbiamo seguire O città Le trasporta Forse Città Le trasporta Ok Ok Mi è incastrato? Eh sta correndo Via Ah no È arrivato davvero qualcuno Che non sembra un criminale Mi mura Ok Ciao Vuoi chiamarmi Poison Va bene Dove sta andando Addirittura Aiuto Eh già È sbrigativo Kiryu Ci dobbiamo tagliare La parte di sopra E invece Aiuto Incominciamo proprio bene Ok Il primo tema Della giornata È Businessman Cioè Uomo d'affari Medio Diciamo Addirittura Già Già Anche io Addirittura La prima Il primo tema È Forza Facciamo questo Facciamo questo Addirittura Possente Che cazzo Di saltati Ok A quanto pare Abbiamo fatto bene Contradizione Ti prego Sì Ti prego sì Mi ha Dio Ok Dobbiamo farne ancora Dammi sexy Ok Sumo Fressler O bodybuilder Sumo Fressler Dai No Abbiamo sbagliato Era quella Da bodybuilder Ok Lui voleva dare Forza Bruta Ci si butta In terapelle Foto Ok Ok Ah Non vuole Ma perché Ma lascia Gliela mettere Addirittura Ma davvero Volete combattere Contro di me No Oh Come Allora Sbalziamoci Prima I più scarsi Che potrebbero Magari solamente Dare fastidio Aia Se non avete capito Con chi state parlando Ho traslato Guarda Guarda Ah ma L'ho distrutta Con la finisher No L'ho mancato Dai Oh Allora Giocando Di picchiare Il suo assistente Ok Adesso Sono tutto tuo Ma dai Mi sta Mi sta Prendendo Pugnoni E' molto più difficile Come ti mento No Non ce l'ho a fare Questa motore Mi ha fatto Un suplex Mi sta facendo Del male Proprio forte Eh Eh vabbè Però noi siamo Kiryu Con un pugnone Lo stendiamo Ok 24 24 24 24 24 24 24 Beh Ma Ma Eh già Non è molto Non è molto bello Fregare la gente È un saggio Kiryu Comunque Cosa mi ha dato Telefono conservativo Telefono conservativo Telefono conservativo Lo possiamo vendere Ma come Ma come Ok abbiamo completato In the name of art Perfetto Adesso possiamo usare i punti Esperienza per I punti abilità Li dovremmo chiamare Per Per potenziare un po' Di livelli Guarda che ci hanno portato Dall'altra parte Della città Però 56 56 56 Ci dà Punti per combattimento E punti Per Aver completato la missione Ok Questa ci serve 196 Questa cosa è interessante Allora Mostriamo l'esperienza Che possiamo Prendere Stile Spoiler Allora Bustiamoci l'attacco Bustiamoci la difesa Assolutamente Bustiamoci la vita Elite gauche Gauche Ok Perché dice 12 E per il resto Penso che posso andare così Allora Torniamo alla Alla missione Diciamo Adesso che abbiamo Fatto questo In realtà Dovrei trovare un posto Qualcosa c'è? Un piatto d'argento Dovremmo trovare un posto Dove mangiare qualcosa Così ci facciamo Anche un po' di esperienza Poi c'è una chiave Da qualche parte C4 Andiamo di qua Ok Un'altra chiave Pieno di chiavi Questo posto J5 Un'altra E4 Addirittura Due chiavi Nello stesso posto Ok Ok qua c'è un posto Dove Qua c'è un'altra chiave Non si sono molto Sprecati Per mettere le chiavi Tu chi sei? No significa no Vediamo Ah Per cosa la voglio Sto pagando il doppio Di quello Che stai facendo In questa Topaia Cosa la vogliono fare La La porno star Deve fare O la modella Boh Se stanno Spingendo così tanto Non deve essere Qualcosa di bello Eh interveniamo No Sai chi siamo Addirittura Siete gente famosa Ma Perché dovete proprio Essere puniti Abbiamo una bici Eccolo qua Quello che abbiamo sbloccato Stavolta Stavolta non posso mancare Ok Chi sono Sono un passante Ok Ok Eh non c'è bisogno È un mio alleato In che senso? Ok Entriamo per mangiare Eh lo so Smile Burger Due Tre E siamo full Ordina Sì Tre panini Obeso Kiryu Non mi danno Abbastanza roba Quindi dobbiamo Quindi dobbiamo Mangiare spesso Invece di Usare i Taurinard Ad esempio Eh salviamo Stavamo dicendo Di tornare alla missione Principale Eccoci qua Eh scusami Mi sono Distratto un pochino Sì sono pronto Chissà cos'è Quella roba Degli alleati Sicuramente Ho raggiunto Qualche nuova Meccanica Che non conosco Kaoru Saiyama Eh è un detective Dalla divisione 4 Ok Sarà Eh bella Cazzuta Ah lo stanno arrastando Ma mi scusi Ebbene in effetti Non sei stata molto sveglio Ah non vogliono Che noi facciamo Questo accordo Tsutomu Besso Osaka perfettore Il capo Dalla divisione 4 Dalla divisione 4 Di qua Ok Quello che hai sentito Il drago Ma siamo diventati Il capo Dalla Yakuza Per 25 minuti Neanche Che ci sono delle ciotole In terra Non potevano pulirle Eh è successo qualcosa Per quello è così cattiva Con le Yakuza Dojo clan Le ha fatto qualcosa Ah ma non male Eh già Eh ci stanno aspettando Vabbè Almeno Riconoscono La nostra autorità Diciamo Dovrebbe essere L'ultimo piano Ok Andiamo Ciao Bene Non sono un Un visitatore casuale Ah È riservato La scienza Dobbiamo prendere Le scale Quindi Ci fate faticare Tu Cosa ci dici Le stanze Di 4 day Ok Possiamo vedere Le stanze Di 4 day Sono queste In quest'area Troppo ampia Sicuramente ci saranno Dei combattimenti Ok Va bene Per adesso Proseguiamo Con la storia Magari Più avanti Comunque Esploreremo Tutta questa zona Ciao Anche perché Bella grande Sì andiamo Eh sicuramente Sì È fatta Posta per fermare L'intrusi È molto Complesso Dobbiamo salire In queste scale Ci dicono Allora Full vita Siamo full vita Una Una scatola Delle equipaggiamenti Quindi ci sarà Un combattimento Salviamo Non possiamo Salvare Ok Parliamo con questo Quindi non finirà bene Questa cosa Ovviamente Anche perché Se no Il gioco Non avrebbe Molta sostanza Ciao Ciao E infatti Assomigliava All'altro Al drago All'altro drago Io con i nomi Sono pessimo Ho abbassato un po' La velocità Delle ventole Del computer Che stavano Facendo un po' Di chiasso Ok Rio Takashima Il patriarca Della Takashima Family Ah È il fratello Calmati Beh N'effetti L'hanno ucciso L'oro Toranozuke Sengoku Patriarca Della Famiglia Sengoku Ok Un po' Violento Ci sei tu Dietro L'assassinio Di Tarada Non ce la può fare Forse non è stato Bello Cioè non è stato Giusto Partarlo con noi È una testa calda Inca Senso Il figlio Ha fatto tutto Questa Alle sue spalle Gorriu È il drago Eh già Vabbè sì Ah quindi sono stati loro Così ricco sei Cioè non c'è Vabbè Qui Ah quindi è più giovane di loro Sengoku Vogliono che forse noi diventiamo il capo del tojo clan Ah gli sta dando la lettera ok Eh vabbè certo per evitare spargimenti di sangue Vabbè ne? Non la vedo finire bene questa roba Ciao Eh beh sì Ci penso io No tutti quelli insieme Potrebbe essere pericoloso Cioè penso che lui sia uno dei boss finali Cioè sembra una bestia sembra Io ti direi di calmarti non è Non sei al suo livello Ah sta prendendo il controllo Ovviamente non sarebbe potuta finire così bene Non c'è bisogno di usare le armi Perché non vuoi la pace? I tuoi piani andranno in fumo eh Eh beh certo Vuole essere il drago l'ha detto Vuole essere il vero drago Ok un attimino Dato che è una spada Cosa era? Ah non dobbiamo sfidare lui ok Stavo già boostando roba Allora Mettiamo boost light attack Prima di tutto Poi 112 168 Prendiamocelo comunque Non volete di cose Siete scarsi ragazzi Ok ci siamo fatti una nuova arma anche Ok Ok finiamolo No Vabbè E quindi? Altra gente Lo sto fuggendo Che male Quelli Che sono praticamente morti E il grassone Ci lo prendiamo per Dopo Questi li eliminiamo tutti così no? Tutta da bravi Io non volevo farvi del male così all'inizio però No No l'ho mancato Ma io Ehi Un po' Compattere contro di noi E' da bravo Ok questo lo possiamo eliminare così giusto? Perfetto Ah No no Dai a terra Ok non ce n'ho dato molta roba Quindi Tocca a te Quindi dobbiamo davvero Vabbè Ha un bel gancio destro Ci aiuta? Dai Denudati Quando succedono i combattimenti quelli seri si denudano Ah Non penso sia una buona idea Ok Ah Kiryu Non gliene frega Cioè Sta andando a salvare Il capo Il chairman Salva Goda Sono tutti Piccoli scagnozzi questi Come? Scusa Baboom No perché non l'ha preso? Eh vaffanculo Ok Bella quella mossa Mettiamola al muro Così possiamo fare questa mossa Per la camera per favore Belli combattimenti Eh no Non avresti dovuto Boom E quindi dove dobbiamo andare? Di qua? Ho preso una sedia Ma la posso mettere in tasca? No No l'ho rotta Ok Ok Chi ci attacca adesso? Ci stiamo ammazzando tutti quelli del clan del drago alla fine Dopo questa Dopo questa non ci sarà nessuno In grado di combattere Questa è la bravi ragazzi E' stranissima la dinamica delle cadute Ti picchio coi piatti ti picchio Ma dopo che mi zoom è un po' più forte degli altri Solo un pochino più forte Da questa parte Ma Mi scusa Ho un po' di calma No non vuoi di nuovo Ma che non funziona? Vabbè non sei molto sveglio Lasciatelo dire Perché Perdono tutta la vita? Screptato che mi tolgono della vita E poi io li ammazzi con un colpo? Che figata! Aia! Ho una bassa sedia che ho giù per prendervi a voi? E vediamo subito Dai Crolla Non li ne frega niente Ah ok Chi è? Ah ci hanno chiuso dentro Hanno delle serrande addirittura Ciao Ok Eliminato Siamo già diventando fortissimi Ho bussato l'attacco Ciao Posso aprire? Vabbè Non male Sto volando Anch'io lo so fare Non l'ho preso Sfondata a pugni una serranda Del power of Kiryu Senti che è da bravo Ah Qua c'è un po' di roba No Non me ne faccio niente Lancialo via Granate? No No Delle granate Tuffness light C'è gente così forte Deve dover lunare le granate Questa non si apre Mi sta facendo del male No niente Devo schivarlo e basta Schivalo però Kiryu Schivalo Che cazzata però questa roba Sto finendo la Vabbè che non mi toglie molto però Non posso neanche pararmi E basta Allora usiamo un Tuffness light Dato che ce l'hanno dato Oh oh Equipaggiamento Allora ci prendiamo una granata La mazza E il coltellazzo Entra da qua? Ciao Proviamo Dai A usare il colpello Bravo Ah ti sei salvato Non eri tu il mio Il mio obiettivo Ah Ah una granata ti tolta così poco E' da bravo tu eh Boom Schiacciata la testa Ok Adesso Si va di qua No Aia Maledetto Ancora voi Inventario Buono se c'è qualcosa nelle skill Perché non è possibile Tutta roba Forte No è tutta roba Tutta roba Ah È peccato Niente Dobbiamo farcela poco a poco Allora Quanto lui non ci può attaccare Ma ne fermo Ci allontaniamo Aia E vabbè Sei morto Mori Che ha detto Altra gente Con le pistole Adesso Ciao Y Ma dai Che figata No 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 Schiva 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 Cosa sta succedendo Ma è bellissimo Dove è la pistola Allora Tu muori Qua dentro Qua dentro Cosa c'è Taurinar Adesso Manca solo No Vediamo se possiamo eliminarlo così Combattiamolo al suo stesso gioco No Non ha funzionato Allora Inventario Toughness Si Usane uno Che ci fulla abbastanza Che cosa è questa roba Poi c'è una pistola È carica No Aha Ok Usciamo Eccoli qua Gli ultimi Gli ultimi Ok 35 29 46 22 17 Ciao E ormai dovremmo essere tutti uniti Eh già Vabbè era normale che non ce l'avrebbe fatta Dobbiamo già combatterlo Combatterlo Già Già Ci pensiamo noi Ci bustiamo la vita Anzi la difesa Più che la vita Che ce l'abbiamo già bustata La vita Sei contento adesso che puoi sfidarmi Sei contento adesso che puoi sfidarmi Giù ci goda Ok Ok è forte lui ecco perché ci hanno dato le granate mi busta la difesa e mettiamolo busta 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 e ci serve tutto allora inventario io ho lanciato l'impronte ahah l'ha stumato per pochissimo sono io il vero drago è davvero un treno non cade vieni questo forse non poteva pararlo ah ma non lo posso grabbare proprio bravo bravo ehi ipsilon incazzato e si è incazzato si aio tempo di usare un'altra cura ah non posso grabbarlo aia non abbiamo skill per attaccarlo aia ce la facciamo dal male ho solo tre toughness cominciamo a schivare un po' di più bravo bravo ma io sono più bravo aia va bene sei bravo anche tu nooo no 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 aia aia ma mi scusi lui ci può prendere noi no è un treno davvero eh però è molto lento cioè è molto più lento di noi anche noi siamo molto lenti aia stiamo prendendo troppi danni e il tauriner ce la facciamo un cavolo aia li ho parato tutti colpi tranne uno che mi ha fatto volare via dai lasciami non vale dai vieni qua aia ma è fortissimo meno male che non mi ha preso sembrava una mossona quella ok mi ha rotta la balle aia vieni che ti mostro il mio swing senti il calore distruggilo una ginocchiata nella faccia l'abbiamo distrutto tra virgolette perché ci stava battendo questa roba delle mosse finali è super OP come no addirittura oppure tranne quando la polizia arriva va bene ci rivedremo è il pullman della polizia che drifta sono tutti per me eccola qua la cacciatrice di Yakuza si anzi no ok ma come mi son difeso e basta volevano uccidermi ok abbiamo finito il capitolo i quattro re degli uomini va bene ragazzi io direi di chiudere qua questo episodio noi ci vediamo al prossimo sempre qua sul mio canale ciao a tutti se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video ciao a tutti ciao Grazie a tutti.